Il nostro obiettivo è dare una svolta alla città di Torre del Greco. È intervenuta ieri mattina al corallo alla presentazione ufficiale della candidatura di Luigi Mennella e della sua coalizione anche la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia. Una coalizione, devo dire, larga, composita, fatta di donne, di uomini, di giovani, di giovanissimi, tanto entusiasmo e tanto protagonismo e tutte queste candidature, queste new entry, danno esattamente la cifra di quello che abbiamo costruito in questi mesi. Abbiamo provato veramente a costruire mattone su mattone, nessuna improvvisazione, memori degli errori del passato e quindi con un entusiasmo contaminante e contagioso siamo qui stamattina al Cinema Corallo per dare il via, credo, a una bella avventura, una campagna elettorale che noi condurremo correttamente e ci auguriamo che lo facciano tutti i candidati a sindaco che sono nostri arvestari in questo momento e ai quali va comunque il nostro in bocca al lupo perché questa deve essere una gara. All'insegna della correttezza con un obiettivo, quello di dare una svolta alla città di Torre del Greco, alla nostra amata città, gli ingredienti ci sono tutti, il futuro si iscrive a partire da stamattina perché il futuro è adesso. Oggi diamo il via ad una bella avventura tra le nostre sfide, il potenziamento della sanità territoriale e la realizzazione di infrastrutture per decongestionare il traffico. Tre sfide, tre obiettivi. Innanzitutto il nostro hub, il porto, ci stiamo già lavorando da mesi come Regione Campania e questo progetto deve diventare concretezza, quindi partiamo dal progetto per poi avviarci alla realizzazione dove mi auguro che potremo poi seguire non soltanto da Regione Campania ma come centro-sinistra anche dall'amministrazione comunale. sicuramente un altro dei nostri cavalli di battaglia è quello della sanità, se anche è un cavallo di battaglia regionale lo vogliamo declinare sempre con maggiore vigore sia per quanto riguarda il nostro ospedale maresca e soprattutto per il potenziamento è il miglior funzionamento della sanità territoriale. La sfida è esattamente lì e poi costruire infrastrutture perché Torre del Greco ha bisogno di strade che siano in grado di gestionare il traffico, ha bisogno di avere finalmente un trasporto pubblico locale degno di questo nome per cui c'è bisogno di una guida competente, c'è bisogno di esperienza, c'è bisogno anche di tanta freschezza, di nuove energie, gli ingredienti ci sono tutti, andiamo a vincere. Presenti in sala tra gli altri il deputato Arturo Scotto, i sindaci di Portici e San Giorgio Acrimano, Vincenzo Cuomo e Giorgio Zinno e gli ex primi cittadini di Torre del Greco Antonio Cutolo e Valerio Ciavolino. Grazie a tutti.